In Romania lavoravo come commessa. Poi ho deciso di venire a questo paese per conoscere, non è che mi mancava niente, ma volevo andare via per vedere un'altra cultura e sono arrivata qua in Italia. Io vorrei fare l'operatrice sociosanitaria perché mi trovo bene in questo campo e quindi mi sento utile e vorrei aiutare le persone che hanno bisogno di me. Loro non vengono perché hanno bisogno e noi abbiamo bisogno di loro. Se nasce empatia tra le due persone, che in fondo stiamo parlando di persone, poi tutto è anche più facile. Conoscere questo sportello per me è stato providenziale. L'utenza che si rivolge al nostro servizio è un'utenza fatta da persone straniere, ma in quest'ultimo periodo stiamo riscontrando molto l'arrivo anche di persone italiane. Questo è il mio lavoro, questo è il sogno della mia vita, lavorare con queste persone. Non c'è la lingua romena, nessuno dice che è romena, parla bene l'italiano, parla anche il piemontese. Il lavoro di cura e di assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti richiede alta attenzione e alta professionalità perché riguarda soggetti fragili e nel contempo investe emozioni, sentimenti, relazioni interpersonali e reciproca fiducia. La regione Piemonte è intervenuta in un mercato ad alto potenziale di domanda, ma che era spesso in nero e ancora troppo sovente governato dalla modalità del passaparola, modalità quest'ultima che non sempre garantisce rapporti tra famiglie e assistenti familiari improntati ad una cultura della legalità. Noi crediamo che la forza di questo progetto regionale sia nell'integrazione delle diverse politiche attive del lavoro, politiche sociali, politiche della formazione e politiche di pari opportunità. Il Ministero ha messo a disposizione delle regioni risorse al fine di attivare un sistema di assistenza, di servizi di assistenza alla persona. Le risorse del Fondo Politiche Migratorie si sono inserite in un solco che in Regione Piemonte era già tracciato perché erano già attivi i servizi sul territorio finanziati tramite il POR, Fondo Sociale Europeo. In più si sono aggiunte a queste risorse, risorse regionali delle politiche sociali. Con il progetto abbiamo sostenuto il consolidamento di una rete di strutture pubbliche e private di incontro, domanda, offerta. Abbiamo attivato specifici sportelli sul territorio che hanno visto il coinvolgimento di centri per l'impiego provinciale, di agenzie per il lavoro private, di enti gestori dei servizi socioassistenziali e di associazioni del privato sociale. Al fine di qualificare il sistema regionale sono stati attivati i percorsi per certificare le competenze acquisite in contesti non formali dalle assistenti familiari. Abbiamo fatto lavorare insieme operatori dei servizi pubblici e dei servizi privati, delle politiche sociali e della formazione. Abbiamo accompagnato le famiglie offrendo servizi in materia di contrattualistica e azioni di tutoraggio e di accompagnamento, anche finalizzate a derogare incentivi economici per la regolarizzazione dei contratti di lavoro delle assistenti familiari. E questo è il modello della Regione Piemonte. Lo sportello si occupa di mettere in contatto persone che come lei sono alla ricerca di un'occupazione come assistente familiare con famiglie che stanno cercando questo tipo di figura. Il mio compito è quello proprio di accogliere le persone che vengono a dare la loro disponibilità per questa tipologia di lavoro. Quindi faccio due chiacchiere con loro, cerco di capire chi sono, quali sono le loro esigenze, quali sono soprattutto le loro competenze, le motivazioni che le portano a dare la disponibilità per questa tipologia di lavoro. Il nostro lavoro è quello di comprendere e anche valorizzare le competenze acquisite attraverso le esperienze lavorative o attraverso anche le formazioni e orientare le persone verso la strada giusta, nel senso che non tutti possono occuparsi di certi tipi di patologie, di non autosufficienza. Ci sono persone più adatte a lavorare come colf oppure come compagnia con persone che riescono in qualche modo a ottemperare ai loro bisogni quotidiani. Altri tipi di lavori invece che sono più difficili e che meritano un approfondimento maggiore anche dal punto di vista di competenze parasanitarie. Quindi sa usare tutti gli strumenti, i dispositivi, il sollevatore anche lo sa usare. Il sollevatore si è imparato a usarli. Oltre a questo poi c'è tutta l'altra parte di accoglienza invece nei confronti delle famiglie che cercano un'assistenza familiare. Allora spesso le famiglie arrivano con poca conoscenza di quello che è il mondo dell'assistenza, anche un po' impaurite rispetto al fatto di mettere qualcuno nella propria abitazione, in casa propria, che magari non conoscono, di cui non possono avere assoluta fiducia. Per me era un'esperienza totalmente nuova. Non avevo mai percorso questo tipo di strada, ma avevo abbastanza chiaro in testa per via delle testimonianze che avevo sentito di altri e per convinzioni personali anche. Volevo seguire una strada che fosse trasparente, chiara, legale, eccetera, eccetera. Non ho mai pensato di, così, come magari è stato detto, chiedere al vicino di casa piuttosto che a un altro conoscente che era passato per questa situazione. Per lungo tempo ho assistito la mamma da sola. E poi quando ho visto che non ce la facevo più dopo parecchi mesi, non sapendo che cosa fare, perché non sapevo a chi rivolgermi, io dovevo affidare ad una persona mia mamma, è una persona cara, una persona che mi sta nel cuore e non potevo scegliere una persona a caso. Le famiglie che si rivolgano allo sportello in questo anno di operatività ho notato che hanno bisogno di essere considerate uniche. Cioè in quel momento l'operatore deve giustamente essere a loro disposizione, hanno piacere proprio di essere ascoltate, hanno bisogno di sentirsi dire che le persone che gli manderai sono persone comunque fidate, che possono far entrare tranquillamente in casa loro. Il fatto che magari a volte capita, dai il tuo numero di telefono, il fatto che ti chiamano fuori orari. Cioè per loro avere qualcuno di riferimento è importante, no? hanno bisogno di essere un po' coccolate perché è così, cioè sapere che in questo momento per l'operatore loro sono importanti. Da parte dello sportello ci sarebbe anche l'opportunità proprio di seguire un percorso di certificazione delle competenze che poi le permette di acquisire il primo modulo OS, che è quello di elementi di assistenza familiare. Potrebbe essere interessata a partecipare? Andrebbe benissimo. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Gli assistenti familiari vengono qui alla scuola di formazione del Comune di Torino di Divisione Servizi Sociali con una scheda già compilata dagli sportelli. In questa scheda sono presenti i dati lavorativi, cioè quindi dove hanno lavorato e quali sono le loro competenze, che loro si autocertificano. In seguito a questa scheda viene predisposto un accertamento di competenze. Questo accertamento di competenze è costituito da tre prove. Queste tre prove vanno a sondare aspetti tecnico-professionali, riferite quindi a argomenti come il diabete, l'igiene ambientale, l'igiene della persona e la mobilizzazione. In seguito a queste tre prove, le persone hanno la possibilità di avere un credito di 150 ore. Questo credito gli consente di essere inseriti in un percorso di 50 ore al termine del quale acquisiscono un attestato di frequenza con profitto di elementi di assistenza familiare. Il corso ha durato 50 ore e devo dire che ci è stato molto utile perché ci hanno insegnato come si deve fare questo lavoro. perché praticamente anche se avevamo l'esperienza in questo campo, però magari facevamo tante cose non proprio come dovevamo farli. Per esempio anche per la mobilizzazione, per l'alimentazione, per le persone che devono seguire una certa dieta. La prima accezione di incomprensione la stiamo vedendo. Non è stato compreso il mio ruolo perché mi ha rifiutato. Allora, un primo meccanismo che può essere messo in atto... Un'altra parte di queste 50 ore l'abbiamo intitolata rielaborazione dell'esperienza perché ci siamo resi conto che le assistenti familiari hanno davvero un grande bagaglio di conoscenze, molto spesso non riconosciute neanche a loro stesse. Prima accezione. Seconda, dica. La fiducia. La fiducia, dica. Le racconto il mio caso. Sì, sì. E allora uno spazio di incontro con dei professionisti, quindi un conduttore di gruppo e un operatore sociosanitario, consente loro di rendere più coscienti gli elementi di conoscenza che hanno acquisito durante l'esperienza. Tutto il corso è importantissimo, non è una cosa. Proprio acquisisci le nuove informazioni che non le sapevi prima, sai gestire meglio l'assistito, il malato, la persona anziana. Dobbiamo migliorare perché è così, è sempre nell'aiuto della persona anziana. Tutto il corso è importantissimo. Ecco, questo corso ha consentito loro il riconoscimento di ruolo, nel senso che loro sono certamente molto importanti per le famiglie, per gli assistiti, e per loro questo era già molto chiaro. Il fatto che fossero importanti anche per le istituzioni ha dato loro un'energia nuova e un coraggio nuovo. Buonasera signora. Buonasera. Prego, si sieda pure. Allora, il tutelaggio entra in campo nel momento in cui l'incontro tra l'assistente familiare e famiglia ha avuto successo. Ci sono famiglie in cui il rapporto di lavoro va immediatamente bene e quindi si incontra due o tre incontri nel primo mese di inizio lavori e poi non si incontrano più. Ci sono invece delle famiglie in cui il rapporto inizia subito ad essere problematico e di conseguenza magari il tutelaggio dura anche, a seconda della durata del progetto, sei o otto mesi. Tutto l'aspetto burocratico lo cura il patronato. Ok, ok. Che cosa succede nel momento in cui incontro una famiglia da sola? Ovviamente si cerca di conoscere la famiglia, si cerca di conoscere, diciamo così, chi all'interno della famiglia ha la responsabilità della persona assistita e si cerca di capire anche un po' le dinamiche familiari. Però questo signore è molto, è anche capace di rassicurarla, no? Cioè, mentre io dico molto più crude, crudemente, dico ma sta dicendo la stupidaggia. Ma, insomma, fa il suo lavoro in modo professionale. Se nasce empatia fra le due persone, che in fondo stiamo parlando di persone, poi tutto è anche più facile, perché poi spesso è anche l'assistita a dire alla figlia o al figlio, o al nuoro, insomma alla parte della famiglia, a dire che si trova molto bene con questa persona. Se si trova molto bene con questa persona, diciamo che la famiglia ha subito un altro occhio di rispetto, un altro occhio di, come dire, positivo nei confronti dell'assistente familiare. E quindi è poi più facile farle incontrare sia dal punto di vista umano e sia dal punto di vista familiare. Qua, da Pietro, cucino, lavo, stiro, faccio l'orto, guardo le galine, faccio di tutto. Taglio con la motoscega per fare la legna. Ne voglio poco, e non darmelo. Ma non è tanto. Basta, basta. E quello non è niente, mangio tutto. Poco, basta. Ti dico una cosa, che c'è la fortuna di arrivare a 80 anni, che c'è la fortuna, ma sei vecchio. E ho avuto la fortuna di trovare questa ragazza, questa. Mi va bene e mi tratta come suo papà. Questo lavoro sono, secondo mio parere, tre ingredienti principali. Cioè, il primo, come diceva San Paolo, non si fa niente, non c'è niente senza l'amore. Devi permetterci sempre di offrire un piccolo posto, in quanto si riesce, dentro il nostro cuore, a quelli che assistiamo. Il secondo è la nostra professionalità. Non l'ultimo è la possibilità di immedesimarsi nei panni di quello che ha assistito. Perché queste persone, quando arrivano qui, e magari sono lontane dalle loro persone, cercano un po', nelle persone che stanno qui, quello che non hanno, quello che hanno al loro paese, quello che hanno lasciato, e bisogna essere capaci, secondo me, di dare a queste persone anche un qualcosina. Perché noi abbiamo bisogno di una persona che lavora. Ma per ricevere il cuore, bisogna dare un pezzo di cuore. Noi latinoamericano, praticamente, parlando in generale di tutta la Sud America, noi siamo tanti vicini a nostri cari, praticamente, i nostri, per esempio, anziani, nonni, perché noi teniamo in casa i nostri nonni. Li assistiamo, non li lasciamo da soli, non è che vivono nella propria casa senza nessun parente, loro stanno lì. Noi siamo cresciuti con i nostri nonni. E anche quando i nostri nonni sono vecchi, continuano a essere fino alla loro morte. Perciò, noi, lavorare con gli anziani è una cosa bene naturale. Qui tu, Lena, ti senti come a casa tua? Io sì, qua come fosse a casa mia. Ma qua, la padrona sono mica io, la padrona è lei. E lei è la padrona, Lena. Bisogna anche saperle prendere, non dimostrare che te sei il padrone, che loro devono sottomettere e fare come devi inseriti tu. No, non è vero. Queste persone qua, questa Lena qua, non hai bisogno. Sono io che ho bisogno di lei. Io per me adesso ho un appoggio, sto tranquillo, perché lei è capace di fare tutto. Fa tutto quello che c'è da fare, pulizia, sincerità e tutto. E poi va a fare le spese, va tutto quello che va a pagare, quello che c'è da pagare. Fa tutto lei. Sa dove ci sono i soldi, se c'è pochi soldi. E' come fosse mia figlia. Buonasera, posso lasciarvi questa informazione, questo involontino? Allora, vi spiego di cosa si tratta, se vi interessa. E' un'iniziativa che parte dalla collaborazione della Regione Piemonte. Io, nell'orario di sportello, mi occupo prevalentemente di promuovere questa iniziativa. Quindi distribuisco delle cartoline informative alle potenziali famiglie che cerco di individuare tra tutte le persone che passano. In seconda battuta, per chi magari ha voglia, ha bisogno di approfondire il discorso, possiamo spostarci in questo spazio per fare un colloquio un pochettino più approfondito dove raccogliere dei dati, quindi sulle famiglie, sui loro bisogni, sulle loro necessità che poi condivido in un secondo momento con i colleghi, soprattutto i colleghi che si occupano dell'incontro, domanda, offerta. Buongiorno, dottoressa Senta. Io avrei un problema che magari lei mi può aiutare. Ho la nonna che mi esce dall'ospedale e ha bisogno di assistenza. Noi purtroppo lavorando non possiamo occuparci. Io le chiedevo se magari lei poteva conoscere qualcuno o c'è qualche associazione che mi possa aiutare per mandare a qualcuno l'assistenza della nonna. Sì, certo. Esiste un progetto della Regione Piemonte. Quello che notiamo spesso nei nostri interlocutori quando illustriamo loro questo servizio e gli facciamo capire come si articola un po' tutta la struttura, tutta l'organizzazione, è sicuramente un sollievo. E quindi l'idea di essere seguiti da una realtà che è un po' collegata all'istituzione, alla regione, che è in qualche modo già su dei binari tracciati, di essere seguiti sia nella ricerca della persona, nella ricerca delle giuste competenze, ma anche in tutto quello che invece è l'aspetto legislativo, burocratico, fiscale. Quindi eventualmente il tipo di contratto di lavoro che con questa persona bisognerà instaurare sicuramente da loro molto sollievo. Noi qui, il nostro intento oggi pomeriggio è fondamentalmente quello di raccontarvi un po' quello che facciamo durante uno sportello AfriPro. Mi tranquillizza perché a questo sportello non c'è un secondo fine, non c'è un interesse personale nel procurare un assistente. Ha un'importanza fondamentale per tutte le famiglie che si trovano come me ad affrontare una situazione di questo genere. Una parte importante di lavoro del nostro sportello è quello di, nel tempo, avere creato e continuare a mantenere viva una rete di relazioni con tutti gli attori, sia pubblici che privati che del terzo settore, che a vario titolo operano nell'ambito dell'assistenza familiare. L'intervento che si è voluto portare avanti con questo progetto è proprio un intervento per cercare di dare una risposta istituzionale, formalizzata a questi bisogni che si vanno a incrociare, cercando anche di ovviare, di cercare di intervenire nel modificare la prassi attualmente in uso che tutti conosciamo, legata al passaparola o alle conoscenze. Abbiamo riscontrato che una difficoltà delle famiglie, ovviamente al di là del trovare la persona giusta, che questo però fa parte del nostro lavoro, cercare di dare una mano, è quello proprio di entrare nel ruolo di datori di lavoro e riuscire a instaurare con l'assistente familiare che presterà l'opera in casa, un rapporto e una relazione che riesca a tenere insieme da una parte il bisogno e la necessità di cura della famiglia che è innegabile, ma dall'altra continua a essere un rapporto d'attore di lavoro, lavoratore o lavoratrice. Diciamo che è molto importante essere assunto e avere i libretti da una parte perché offre la sicurezza da tutti i punti di vista, sia per te sia per i familiari, perché per esempio per me è importantissimo avere l'assicurazione sanitaria per la mia figlia, anche per me lavorando e quindi aver pagato le tasse e magari un domani andare in pensione, quindi è molto importante, è anche una grande forma di rispetto nei nostri confronti. Perché si deve smettere con i lavori a nero, perché non va bene a nessuno e soprattutto non va bene neanche alle famiglie, perché le famiglie devono avere una persona con delle qualifiche, perché affidare un assistito, affidare giovane, anziano che sia, a una persona che non ha le qualifiche, le competenze, non è giusto, non è giusto nei riguardi appunto dell'assistito. L'azione di sistema promossa dalla Regione Piemonte ha avuto un buon successo perché ha ottenuto ottimi risultati in termini numerici, sono state coinvolte circa 8.000 assistenti e circa 1.500 famiglie, ma soprattutto si è cercato di dare copertura a un bisogno reale delle famiglie a cui gli sportelli territoriali hanno risposto attraverso processi di preselezione degli assistenti familiari. La rete dei soggetti pubblici, privati e del privato sociale si è confrontata e rafforzata, collaborando in modo funzionale e integrato, qualificando così un solido sistema regionale e contribuendo all'emersione del nero nell'ambito del mercato del lavoro e delle assistenze familiari. Le assistenti stesse hanno potuto vedere riconosciute le proprie competenze e ne hanno anche acquisite di nuove, mentre le famiglie, nell'agire in un ruolo inconsueto che è quello del datore di lavoro, hanno contribuito a creare e a testare luoghi sicuri e credibili dove rivolgersi in caso di bisogno. Abbiamo fatto squadra, integrando capacità ed esperienze di soggetti diversi, con l'obiettivo di essere al servizio delle famiglie e degli assistenti familiari. In questo abbiamo sperimentato dei nuovi luoghi per l'incrocio delle domande e dell'offerta, con sportelli volanti, sia nei centri commerciali che nel circuito delle farmacie comunali. Tutto il processo si è integrato con quello in corso legato alla standardizzazione dei servizi per il lavoro e l'accreditamento e crediamo di aver creato un modello efficace, efficiente e sostenibile che ci auguriamo possa essere anche replicato in altre realtà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.